Benvenuti al video. Questa è una presentazione del prodotto Abitini e Scarpette Sword Art Online. 51 metri Jacket Magic Swordsman Rifat S-Y-L-P-H-Tribe De large prints de rifatuso are the sky-to-back, it created and loversword, the design reflecting the image offered that is attracted to toothly on the chest. From casual wearing is it two coordinate. Jacket Kalledas de Moody's coat is compatible with rock style. It is the item which is recommended for you who want to flee around the world of hollow with rifa. Per maggiori dettagli e ottenere una grande offerta sul più grande rivenditore online al mondo Amazon E.T., clicca sul link nella descrizione sottostante. Grazie per la visione.